Buongiorno a tutti, qui Ardino Schenato da Yardforex.com e in questo video voglio parlarvi dell'oro della settimana scorsa e di come si poteva andare a sfruttare un movimento rialzista andando a lavorare direttamente nel breve termine nei time frame giornaliero e quattro ore. Quindi diciamo che questo è un video un po' di continuazione di uno degli ultimi video su cui avevo parlato principalmente di dollaro yen proprio di grafici a quattro ore del miglior time frame per fare trading di breve termine dove ovviamente ho discusso del fatto che non c'è un miglior time frame ma è un mix tra weekly daily e quattro ore che ci permette di lavorare bene nell'ottica di breve termine. Quindi un trading che vada uno o due giorni anche al massimo a uno o due settimane. Allora andiamo a vedere che cosa è successo sull'oro e che si poteva sfruttare nell'ottica di trading, nell'ottica di un trading esclusivamente basato sulla price action e che in effetti poteva dare anche dei buoni risultati con diciamo dei rischi che possono essere abbastanza realistici soprattutto ma diciamo piccoli rispetto al possibile profitto. Allora andiamo a vedere che cosa era successo sull'oro senza andare a prendere un grafico weekly che comunque potete ben capire perché il daily vedete questo quindi lo prendiamo lo stesso eccolo qua. Il weekly aveva creato un pavimento proprio in questa zona 1640 facendo questa barra settimanale di ampia volatilità e che è un doppio minimo IR close. C'è appena stato tra l'altro un seminario, il video precedente a questo è un webinar dedicato proprio a questo tipo di trigger e che cosa è successo? E' successo che nel momento in cui si è formato quel trigger la candela giornaliera che aveva formato quel trigger è questa quindi una barra che va completamente ad annullare le barre precedenti quindi una grande volatilità, un corpo assolutamente maestoso, imponente e una chiusura di giornata venerdì che era ampiamente sopra le resistenze di breve termine. Le resistenze erano queste qui le aree che praticamente passavano per i 1670, 1670. Queste zone quindi rotte in grande volatilità diciamo che questo poteva un po' essere considerato un po' il fallimento della struttura short di breve termine. Quindi principalmente il daily ci mostrava un segnale long, ci mostrava una dinamica, un'informazione long. Ok? Quindi da lì partiamo, in realtà era già il weekly perché questo era un daily che chiudeva il venerdì quindi poi nel weekly si è venuto a creare ovviamente tutta questa dinamica. Quindi successivamente che cosa fare? Nell'oro, nel grafico dell'oro, nelle settimane, nelle giornate successive si può andare a ricercare degli input long che possono arrivare già direttamente su daily con delle conferme o anche su grafico a 4 ore che sapete è il time frame, l'unico time frame sotto il daily che posso utilizzare nel mio metodo operativo. Guardiamo bene che cosa è successo. Questo è il 4 ore che vedete qui, c'è scritto qui in alto, qui D vuol dire daily. Ecco guardate, allora movimento rialzista e una giornata di consolidamento. Eccola qua, la inside bar. Questa qui è la classica inside bar, eccola qua, che consolida al di sopra della resistenza. Quindi movimento, consolidamento, non chiude sotto, rimane lì e poi c'è la sparata su. Guardate che cosa fa in questa zona. Quindi questa, guardiamola nel grafico a 4 ore, quello a fianco, è il movimento del venerdì che sul 4 ore è questo qua. Guardate, lo metto sopra e si nota, è quello lì evidenziato. Poi barra inside che crea una sorta di congestione e guardate cosa è successo dopo, bam. Pin bar FDV, eccola qui. Tra l'altro bellissimo, l'ho anche vista nel momento in cui si è venuta a creare. Guardate qua, questo è una 4 ore dalle 9 alle 13 su Pro Real Time dell'8 di novembre, martedì 8 novembre. Quindi che cosa è successo? Proprio nel momento in cui 4 ore per noi è più efficace, quindi durante la sessione, quindi o la chiusura delle 9 o delle 13 o delle 17, sono le 3 chiusure a 4 ore che posso andare a fare riferimento durante la sessione europea-americana, si è venuta a creare una conferma molto interessante perché quello che a me piace, se voglio lavorare nella tendenza, se c'è una forte lag, quindi in questo caso una grande barra, il 4 ore può darci poi dei buoni spunti. Non è solo questo, non è solo questa cosa, è questa che è arrivata dopo una fase di consolidamento. Quindi in questo preciso caso si poteva andare a lavorare su rottura dei massimi fatti su 4 ore, dove però in questo caso lo stop loss, per carità, si può anche inserire, è strettissimo e mettere qui, tutto è fattibile. Io personalmente avrei optato per uno stop di posizione, quindi un paracadute più ampio, magari non per forza al di sotto dei minimi settimanali perché bene o male qui doveva tenere, cioè se ha tenuto qua non doveva ritornarvi giù, però può succedere anche questo, guardate può succedere una barra su, poi può essere che il mercato scenda, faccia questo e poi lo riprenda, sono classiche cose. Quindi nella volatilità, diciamo, di quel momento si poteva un po' ragionare appunto sulle dinamiche di volatilità, quindi sulle estensioni e sulla grandezza, ecco, della volatilità di quel momento. Quindi nel momento in cui ho questa volatilità, facciamo un esempio, prendo da qui a qui tutta la volatilità del pullback, la duplico qui e posso andare a inserire uno stop di posizione, guardate, un po' sotto questi minimi, 1645, 1642. Quindi cosa significa? Significa andare a comprare qui, per esempio, comprare, non so, 1674 e mezzo, 1675, quella poteva essere la giusta cosa, quindi vuol dire sul daily vederlo in questo modo, unità di tempo superiori, eccolo qua, quindi essere entrati long qui, non mettere lo stop subito qui, ma abbiamo detto a 1642, quindi 1642 significa andare a impostare uno stop, eccolo qua, più o meno qua, facciamo fare anche 16, andiamo a vedere quanto è qui, 1645, 1643, benissimo, ok. Questo è un buon paracadute per il tipo di setup, perché io comunque la mia conferma ce l'ho su quattro ore, perché? Perché nel caso in cui lui può fare questo, io rimango comunque dentro il mercato, e non mi fa uscire, e però non, quindi non vado a inserire uno stop troppo stretto che può essere preso e poi viene recuperato, quindi diciamo uno stop classico, dove tutti, se ha fatto uno swing lì, vanno a impostare lo stop lì. Ecco, la mia informazione che voglio passarvi, non voglio andare a inserire uno stop che si è inserito dove tutti lo inseriscono, ok, voglio che sia non classico, ok, quindi 1643, 1642 potrebbe essere un ottimo paracadute, oppure ovviamente al di sotto, ovviamente magari facendo un, pensando anche alle percentuali di rischio su cui si può andare a lavorare, in questo caso 1643, 105, massimo un percento di rischio si poteva fare, e si poteva tranquillamente andare a chiudere la posizione dopo la barra in questo caso, quindi barra super di volatilità, qui, bam, fine barra, questo è dalle 13 alle 17, si esce ovviamente, a meno che non si abbia impostato un target, c'era i 1700 che erano molto importanti, si poteva uscire lì. Bellissimo questo, a livello didattico, questo è un ottimo modo per spiegarvi come leggere bene un quattro ore rispetto al daily, poi se vogliamo, guardate cosa è successo, successivamente il mercato ha fatto una cosa simile, seppur non ha creato poi l'FTV Pimbar, ha creato sempre una mini-FTV, ma siamo intradabili, sono più inside queste qui, ma la cosa che mi piace e che è più importante anche di questa è il consolidamento, cioè il fatto che dopo una struttura del genere, quindi un rientro all'interno dei livelli precedenti di resistenza che diventano poi rotti, quindi potrebbero diventare supporti, la cosa più importante è la fase di congestione, la fase di congestione, ok? Questa è la cosa più importante, al di là poi di questo che diventa l'ultimo trigger, perché qui per esempio il fatto che lì congestioni, si poteva invece andare ad inserire un long, in questo caso dove? Sui massimi di questo, sui massimi del pivot point, questo qui, questo è un punto importante che va a creare la possibile volatilità rialzista, molte posizioni short che potrebbero essere nate su questo swing, dove molti trader avrebbero magari venduto su questi livelli, dov'è che vanno a stoppare? Vanno a stoppare qui, quindi qui ci può essere l'aumento di volatilità, quindi in questo caso la congestione può essere utilizzata sulla rottura al rialzo di questo spike, anche qui bisognerebbe andare sempre ovviamente a lavorare sulla volatilità come paracadute, quindi prendere anche qui magari il minimo massimo, duplicarlo sui minimi e utilizzare uno stop che almeno sia a 1676, 1675, non primo, uno stop paracadute, che ci permetta, nel momento in cui lui faccia un movimento long, qui ci permetta di uscire dal mercato senza dover essere troppo frettolosi e capire esattamente quello che può avvenire. Quindi questo volevo farvi vedere oggi, volevo farvi vedere questa dinamica degli E4 Ore che è molto didattica, può aiutare molti di voi che vogliono imparare questa metodologia di trading che io utilizzo da tantissimi anni, potete anche vederlo dai video che ci sono qui, i primi risalgono al 2010 e io non ho mai cambiato la mia operatività, seppur sia un po' evoluta ovviamente perché io sono diventato più bravo, più esperto, ma le basi sono le stesse. Ecco, time frame, multi time frame, daily 4 ore, trovare gli spunti giusti per entrare al mercato con, nell'ottica di breve termine, con, diciamo, a nostro favore, la tendenza di quel momento che può continuare, il 4 ore spesso ci può indicare il punto giusto nel quale entrare, diciamo, e farci un buon trade. In questo caso, vabbè, è durato quello che è durato il primo, se ci pensiamo si poteva veramente chiudere in 4 ore, non è sempre così, però è un trading assolutamente interessante. Va bene, l'oro ci ha dato questa possibilità di vedere questo, sicuramente nei prossimi video vi farò vedere anche altre situazioni che accadono, magari operazioni che ho fatto, per esempio ce n'è una sul petrolio che potrei farmi vedere nelle prossime settimane, ma comunque ho anche su un titolo azionario molto interessante, su Campari, ma insomma ne ho alcune che potrei farvi vedere, e anche altre situazioni che vedo, magari non ho tradato, ma che vedo e che studiando, cercando sempre di migliorarmi, riesco a valutare come interessanti, e quindi magari ve le posso postare qui. Quindi ci vediamo ai prossimi video, io vi saluto, vi auguro un buon trading simple, e al prossimo video. Buon trading simple, ciao a tutti.